In questo video ti faccio vedere come attivare l'accesso con OTP per il tuo pannello di gestione. Per prima cosa collegati alla pagina admin.arubabusiness.it. Quindi inserisci le tue credenziali, il codice cliente e la password e poi accedi. Vedrai lo stato non attivo qui in alto. Per andare avanti inserisci il tuo numero di telefono in questo spazio e seleziona Verifica ora. Ti invieremo un codice di verifica al tuo telefono. Inserisci quindi il codice qui e clicca su Attiva. Adesso sarà necessario scaricare l'app Aruba OTP sul tuo cellulare. La trovi sul Play Store per Android e Apple Store per iOS. Ok, una volta acquisita l'app sul telefono, aprila e clicca su Attiva account OTP. E da questa schermata seleziona il simbolo del QR code accanto al codice di attivazione. Adesso inquadra con il telefono il QR code che vedi nella pagina del computer. Oppure inserisci manualmente i dati nome utenza e codice di attivazione e concludi la procedura toccando il pulsante Attiva. Adesso, tramite l'app, visualizzerai un codice che dovrai inserire nella schermata del computer in questo spazio. È un codice a tempo, ma non ti preoccupare. Se scade, puoi sempre utilizzare il prossimo che appare. Una volta inserito, clicca Confirma e Attiva. Ben fatto! Il servizio è correttamente attivato e dal prossimo accesso al pannello di controllo, dopo aver inserito il proprio codice cliente e la password, ti verrà richiesto l'inserimento del codice univoco generato dall'app Aruba OTP.